A pochi metri dalla Grotta della Natività, la chiesa di Santa Caterina si riempie ore prima della mezzanotte. È Natale in tutto il mondo, ma il luogo è unico. Betlemme si prepara a celebrare la nascita di Gesù. Siamo in Viaggio di Nozze e siamo sposati la settimana scorsa, giovedì. Abbiamo scelto di venire qui per il nostro Viaggio di Nozze e per trascorrere anche Natale nella casa di Gesù. Qui è nato Cristo, qui. Tutte le liturgie si dice qui, oggi qui è nato Cristo. E quindi con molta semplicità, umiltà, tranquillità e anche gioia siamo qui. Ad una parte della messa di mezzanotte partecipa anche il presidente palestinese Mahmoud Abbas. Tra le oltre mille persone presenti, alcuni cristiani da Gaza, i pochissimi che dopo settimane di incertezza sono riusciti all'ultimo minuto ad ottenere il permesso per uscire dalla striscia. Celebriamo un Dio che dà sempre alla ricerca dell'uomo e che a Natale ha deciso di irrompere nella nostra stessa carne e abitare in mezzo a noi. A Natale tutti i credenti del mondo si rivolgono a Betlemme. Per Monsignor Pizzaballa, amministratore apostolico del Patriarcato latino di Gerusalemme, andare a Betlemme significa soprattutto fare proprio uno stile, lo stile di Betlemme. Il pensiero è rivolto soprattutto alla situazione della Terra Santa. Ho come l'impressione a volte che facciamo fatica a fare nostro lo stile di Betlemme. Questo succede quando ci stanchiamo di vedere e di riconoscere come ingiusto quanto accade attorno a noi, quando cioè ci rassegniamo ad accettare come normali le separazioni e divisioni della nostra popolazione causate dalla politica o la fatica nella vita di ogni giorno per trovare e per recarsi al lavoro, per spostarsi liberamente. Quando facciamo nostro rifiuto ad accettare nella nostra realtà l'esistenza dell'altro diverso da noi, sia esso ebreo, musulmano o cristiano. Ma per Monsignor Pizzaballa, in questa terra, lacerata e divisa, non mancano gli esempi di chi autenticamente incarna lo stile di Betlemme. Cita le persone che spendono la loro vita per servire i disabili che nessuno vuole, le scuole locali che accolgono cristiani e musulmani, le persone, associazioni e istituzioni che vogliono semplicemente incontrarsi superando le incomprensioni di quanti non condividono il loro desiderio di incontro e di pace. Sono loro oggi a ricordarci che lo stile di Betlemme è ancora possibile. Gesù bambino torna nella mangiatoia, è di nuovo Natale a Betlemme.